Torna a salire la percentuale di positivi in Abruzzo, che oggi si attesta poco sopra il 6%, quasi doppia rispetto a ieri. Sono 255 nuovi casi, di età compresa fra gli 1 e i 91 anni, scoperti nelle ultime ore a seguito dell'analisi di 4123 tamponi molecolari. Torna a salire anche la triste conta delle vittime. I pazienti deceduti sono 14, di età compresa fra i 60 e i 100 anni, anche se per 6 non ci si riferisce alle ultime 24 ore, ma a giorni precedenti. Il totale dei morti con Covid sale così a 1.151 da inizio emergenza. Curva in decrescita per i ricoveri, altri 28 in meno rispetto a ieri, per un totale di 506 pazienti degenti in ospedale. Di questi, 39, meno 2 rispetto a ieri, con due nuovi ricoveri, sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, invece, ci sono 11.474 persone, meno 199. Cresce in maniera costante il numero dei dimessi guariti. Sono complessivamente 20.705 più 470 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 12.019, meno 229. Continua il trend positivo dell'andamento epidemiologico nella nostra regione, spiega l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, commentando le anticipazioni del report settimanale di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Cabina di Regia, che analizzano i parametri della settimana fra il 14 e il 20 di dicembre. Nel periodo preso in considerazione dal monitoraggio, continua la nota dell'assessorato alla Sanità regionale, l'indice RT in Abruzzo si attesta allo 0,7% a fronte dello 0,82 della settimana precedente. Diminuisce anche di 5 punti il rapporto fra positivi e casi testati, esclusi dunque i tamponi di controllo, che passa al 19,8% contro il 24,8% del periodo precedente. Tra gli altri dati presi in esame, spicca la riduzione del numero dei focolai attivi, che passa da 659 a 498. Di questi, quelli riferiti alla settimana fra il 14 e il 20 dicembre, sono 164, 54 in meno. Il tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva passa al 22%, la soglia di allerta è al 30%, mentre quello dei posti letto in area medica è al 37%, la soglia d'allerta è al 40%.